Tempo di festività natalizie, tempo di tombole. Un passatempo che non invecchia mai che in alcuni luoghi accompagna le feste con una lunga maratona non stop. È il caso dello Sport Park di Fano dove la supertombola è iniziata lo scorso 26 novembre e continuerà fino al 15 gennaio tutte le sere. Tutti i giorni della settimana è una scelta magari un po' discutibile, però durante la settimana anche se ci sono meno persone, perché si concentra un po' tutto sul weekend, ci sono i nostri clienti affezionati che hanno sempre comunque piacere di essere qui e passare quell'oretta, l'oretta e mezza in compagnia per giocare a tombola e quindi anche se siamo pochi noi giochiamo sempre tutti i giorni da lunedì fino alla domenica. Di persone che vincono sono veramente tante. Tu considera che ogni giro noi mettiamo in paglio 5 premi e delle volte arriviamo anche a 9 premi per un solo giro. Consideriamo che in ogni serata facciamo dai 20 ai 25 giri, fai te i conti, adesso non li ho fatti al volo ma fateli voi a casa. Si fa veramente felice tanta gente e poi un'altra cosa importante che voglio dire è che possono vincere tutti. Una cosa bella della tombola e probabilmente è la sua formula vincente è che coinvolge tutti tutti tutti. Quindi partiamo da un bambino di 3-4 anni che viene magari con i genitori a fare le prime esperienze all'anziano, almeno bambino di 80-90 anni che viene qui per passare il tempo e vincere qualcosa. Ci sono sempre tutti i premi classici. È chiaro che noi partiamo dal pacchettino di tarallini e arriviamo fino al prosciutto per poi andare ai telefoni, ai televisori e tutto quello che si può essere a livello anche tecnologico. Poi le novità man mano che vengono presentate, anche diciamo che le troviamo nei negozi, cerchiamo di non farsele mancare mai in maniera tale da poterle sempre proporre ai nostri clienti. Grazie.